Ciao a tutti appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre ragionati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Horror Theater, una raccolta di storie di Kazuo Mez, edito a Star Comics, prezzo 15€ a volume. Questo è il volume 1, questo è il volume 2, è una raccolta di storie. Nel secondo volume due storie del 65, una del 66, incentrate sulla stessa figura misteriosa, questa donna serpente che vuole trasformare gli altri in serpente. È una donna che si può trasformarsi in serpente con denti lunghissimi, davvero molto spaventosa. La protagonista è sempre quella, questa Chioco, che proprio viene perseguitata da questa donna serpente. Molto molto belle come storie, davvero fatte benissimo. E sono del 65, quindi sono davvero molto vecchie, però hanno qualità anche nel reparto grafico, davvero stupende. Soprattutto certe tavole sono davvero fatte molto, ma molto bene. Devo dire, è molto molto bello. Mentre il secondo volume, il primo volume, è una raccolta di 5 storie più recenti. Quindi il 67, il 75, fino addirittura all'83, ecco. Quindi è una raccolta di storie un po' più recenti. Queste invece, queste 5 prime volume, non c'entrano niente una con l'altro, ma è una storia a 6 stanti, a differenza del secondo volume. C'è la storia di una ragazza che ha il viso di un adulto, di un bambino, che ha il viso di un adulto, anche nonostante ha 2-3 anni, non riesce comunque a crescere, però il volto gli resta l'adulto ed è invidiosa della sua sorella, che è molto più bella di lei. Cerca di farla fuori, di ammazzarla. Nonostante sia un neonato, ragiona come un adulto. È cupo come un adulto. E questo mix si deve far rendere ancora più terribile. Poi ci sono anche uno che divora, una che è senza cuore, letteralmente. E' quindi davvero un mix di storie per tutti i gusti, per tutti gli orrori. Molto molto belle come raccolta. Si vede Giungito, che ha tratto palisemente ispirazione da Kazumez, che è il suo maestro. Grazie probabilmente a Kazumez esiste anche Giungito. Se no, avrebbe continuato a fare l'odonto tecnico. E quindi... Molto storie molto molto belle. Se vi piace l'horror, sicuramente vi piaceranno anche queste. E a me che l'horror comunque non piace. Però mi piacciono comunque. Kazumez è uno di quei manga storici che bisogna conoscere, bisogna leggere. Perché merita davvero tanto. È il maestro dell'horror. È quello che ha dato là più o meno questo genere. Non è che non ci fosse già nei libri, nei romanzi l'horror. Però nei manga è quello che più di tutti ha innescato proprio questo genere. E quindi merita molto. Ripeto, sono storie fatte benissimo. Molto belle. Tutte coinvolgenti. C'è per tutti i gusti. Però ovviamente non è una storia unica. Ecco, soprattutto il primo volume sono cinque storie a se stanti. Mentre magari il secondo, che si può anche leggere separatamente, senza bisogno di leggere il primo. Altre storie comunque centrate sulla stessa figura, questa donna serpente. Quindi magari potreste prendere anche solo il secondo per farvi un'idea. Perché, ripeto, anche se leggete solo il secondo, non cambia. Ecco, io ve lo straconsiglio a tutti di avere almeno un'opera di Cazzo Metz. Per me Batmiss è quella più bella tra tutte quelle che ho letto. Poi metterei il suono Shingo. Batmiss però ha tre volumi. Magari se uno si vuole avvicinare a questo autore che non conosce, direi magari prendere il secondo volume di Horror Theater. Perché, secondo me, ti fa capire bene l'autore, lo stile di disegno, le storie. E strastraconsigliato, soprattutto se gli piace Giungito. Che questo è il suo maestro, in tutti gli effetti. Anche se non ha studiato da lui, però. È il suo maestro spirituale, se così vogliamo dire. È quello che lo ha ispirato. E quindi, mi sono piaciute molto. Niente, io vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, vi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate un bel like. Vi ricordo che ho anche un canale Telegram. Dove potete parlare e chiedermi di quello che volete a Teva Manga. Ho ovviamente una pagina Instagram. Quindi vi invito a seguire anche quella. Così restate sempre aggiornati. E attivate la campanina così siete sicuri di non perdervi ogni mio video. Noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao.